35 36 gradi si se l'ha vista alla fine non la vedi però è molto ah scende poi non ho capito perché c'è un pezzo si non lasciamo no no dai a te può cambiare ora è quello come il mio si si lascio il mio no dai si è un pezzo 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 sono appesa su un fraccionamento e aspetto che Ale finisca di fare il tratto di corda sopra di me e intanto parlo e oggi siamo alla grotta del chiocchio visto che è armato anche dopo il centenario siamo scesi un po e adesso stiamo risalendo non abbiamo fatto il fondo ma non importa e niente è non 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 è toccolo non è non c'è quando cosa cosa è comodissimo ok Sì Siamo arrivati all'uscita Una spegliorana Sì